io ti ho scoperto con marijuana marijuana sempre me cazzo mene e lì era tutto era trap proprio tra la trap ma posso dire una cosa vi posso dire cosa ho fatto e chi mi ha ispirato tanto vai il pagante assi ma davvero io credo che quelle siano le tracce rap trap più fighe di quel periodo lì ed assurdo che siano c'è ti giuro che mi sono ispirato al pagante da qualche pezzi più o meno è ma il pagante il pagante la cosa figa che faceva è che parlava veramente agli italiani ai milanesi il pagante parlava gli italiani ai milanesi in modo esagerato caricaturiale hashtag no parlava veramente come parlavi per strada slogan se tu vedi cazzo mene minchia frate come sto che frate come so è proprio quello è quel codice dei manifesti quel codice ovviamente con un altro sound più più figo quindi poteva poteva anche innamorarsi un fan del pagante sì sì sì